Una bella ragazza bruna Non so se voglio veramente comunicare delle cose, sono gli altri che decidono se le cose che io scrivo le interessano o no, ma non posso deciderlo io, cioè non è nelle mie intenzioni il comunicare, è lo scrivere nelle mie intenzioni, ma non il comunicare. Sento fisicamente la poesia sistemata tra qua, qua il cuore, tra qua che sale qua, dietro, tra la bocca e il naso e poi fa tutto un giro e fa così. Ciao Patrizia, come stai? Al cuore Fa bene e fa le scale al cuore Fa bene e fa le scale al cuore L'amore qua è, l'amore Nella tua vita quanto è stato importante? Anche per le autori scrivere È stata fondamentale, no? Ha prodotto la maggior parte delle mie poesie Altrimenti muore, si muore, si muore, il cuore La sua vera bellezza era molto engaging, cioè aveva qualcosa da dire Quando ci siamo presentati, Patrizia Cavalli, Horses, così Una bella ragazza bruna Che non piange per me o per te Piange, piange perché ha paura Ha paura e non sa di che Bella, bella ragazza bruna Allora, bella ragazza bruna, bella ragazza bruna